Per capire come il tempo si dilata, vediamo di descrivere la situazione che descrive Einstein. Einstein descrive un treno superveloce, o se preferite un'astronave, che viaggia a una certa velocità, velocità astronave o treno superveloce uguale costante, e all'interno di questa astronave, di cui l'esterno per Alice è invisibile, Alice misura il tempo proprio con un orologio a luce. Quindi un orologio come lo abbiamo appena disegnato, con i due specchi, e il raggio di luce che sale e che scende. Qua questa è la nostra Alice, e quindi Alice misurerà il tempo come? Secondo quello che abbiamo appena detto. T uguale L fratto C, dove L è la distanza tra i due specchi, che possiamo anche per semplicità identificare come la distanza, l'altezza, diciamo così, dell'astronave stessa. Quindi i due specchi sono attaccati, uno al soffitto e uno al pavimento dell'astronave, e quindi possiamo dire che questa è L maiuscola. Quindi Alice cosa fa? Vede appunto il raggio di luce che fa su e giù, e anche se la velocità viaggia, cioè l'astronave viaggia a velocità costante, lei non distingue rispetto a una situazione di quiete, lei vede semplicemente questo raggio di luce che va su e giù, fa tic tac, diciamo, senza che succeda nient'altro. Mentre lei si muove, ma lei appunto, ricordatevi il primo postulato della relatività distretta, lei non distingue, cioè il principio di inerzia, il fatto di essere in moto, di essere ferma. Ora, cosa succede però se c'è una persona, in particolare un tale detto Bob, quindi B, che guarda Alice che viaggia? Eh, qua è la cosa diversa. La cosa è diversa perché se Bob avesse, diciamo, ipotizziamo una vista come quella di Superman, che riesce a vedere attraverso le pareti, e vedesse all'interno di quello che succede nell'astronave, lui non vedrebbe la stessa cosa che vede Alice. Perché non vedrebbe la stessa cosa che vede Alice? Perché nel mentre che il raggio di luce sale verso l'alto, in questo modo, in realtà l'astronave che si sta muovendo si è spostata, si è spostata di quanto? Beh, dipende dalla velocità dell'astronave, chiaramente, no? Cioè l'astronave si sta spostando e quindi, mentre il raggio di luce sale, l'astronave magari si trova in un'altra situazione, in un'altra condizione, diversa rispetto a Bob. Rispetto a Alice, Alice manco si è accorta che l'astronave si è spostata da qui a qui. Quindi il raggio di luce che era partito da qui, magari arriva in alto quando si è, anzi sicuramente arriva in alto, e arriva a toccare qui quando l'astronave si è già spostata. Quindi in realtà il raggio di luce fa questo lavoro per Bob. Cioè per Bob il raggio di luce non va su e giù, ma va in una diagonale che dipende chiaramente da che cosa? Dalla velocità a cui si muove l'astronave. Più l'astronave è veloce, più la diagonale è allungata. Più l'astronave è lenta, più la diagonale è breve. E questa è esattamente la stessa cosa che succede se voi guardaste una persona che giochicchia con le chiavi in un treno. Se lui tira su il suo mazzo di chiavi ed è fermo, davanti ai suoi occhi c'è un altro passeggero, fermo come lui, fermo si fa per dire sul treno, lui tira su, cioè viaggia a velocità costante, lui tira su le chiavi e gli ricadono nella mano. Ma uno che è alla stazione e guarda la scena, certo che lo vede, che vede le chiavi ricadere nella sua mano, ma non vede fare un movimento verticale alle chiavi, come invece vede il passeggero che sta su. Quello che è giù alla stazione e vede le chiavi fare una specie di parabola, o meglio una curva, perché nel mentre il treno si sta spostando. Quindi sì, le chiavi ricadono di nuovo sulla sua mano, ma nel mentre il passeggero si è spostato col treno. E quindi quello che si vede alla fine è uno spazio diverso. Già solo per questo si potrebbe intuire che la relatività implica un cambiamento fondamentale. Se poi continuiamo a vedere quello che succede, cioè quindi questo è il tick, perché è l'orologio che va dallo specchio in basso allo specchio in alto. Se poi Bob continua a vedere quello che succede, poi vedrà un tack, che è di nuovo un'altra diagonale, chiaramente. Perché è un'altra diagonale? Perché Alice vede una cosa che scende verso il basso, ma Bob vede una cosa che scende verso il basso nel mentre che l'astronave si sposta. E quindi l'astronave, diciamo, farà tack così. Questo è il triangolo isoscele. Come sapete bene, nei triangoli isoscele l'altezza forma 90 gradi e quindi forma due triangoli rettangoli. Ora, se analizziamo un secondo questi due triangoli rettangoli, questo è quello che vede Alice, questo è quello che vede Bob. Questo è un triangolo rettangolo. Se vogliamo possiamo usare il giallo per evidenziare che questa è sempre L, l'altezza L, che è la stessa che c'è qui, ma il raggio di luce questa volta compie una diagonale anziché andare dritto. Perché se il treno si sposta da qui a qui e noi sappiamo che la velocità è spazio fratto tempo, giusto? Allora possiamo dire che questa è la velocità del treno e questo spazio, cioè quindi la base di questo triangolo rettangolo a sinistra, la base è data dalla formula inversa, chiamiamola S, la base uguale V per T, formula inversa di V uguale S fratto T. Ma attenzione, dove S è appunto la base, V è la velocità a cui viaggia l'astronave, anzi chiamiamolo il treno, treno superveloce, V di T. Mentre il T, il tempo, questo tempo qui, è il tempo che vede Bob. Perché il tempo che vede Bob? Perché Alice neanche lo sa di muoversi. Quindi questo è il tempo che vede Bob, chiaro? Lo chiamiamo T di B. Invece, Alice, possiamo riscrivere quello che avevamo già scritto, e cioè che è uguale a L, che è dove L è l'altezza tra i due specchi, che poi sarebbe anche l'altezza qui, tra dell'astronave, ovvero l'altezza del famoso triangolo isoscele di cui abbiamo parlato prima, fratto C, dove C è chiaramente la velocità della luce. Quindi, insomma, in buona sostanza, già vediamo che c'è una differenza tra il modo di calcolare il tempo di Alice, che è questo, e il modo di calcolare il tempo di Bob, che è questo, T di B uguale a S fratto V della astronave, che possiamo anche lasciare indicata come V, perché tanto la velocità della luce l'abbiamo indicata come C. Fin qua ci siamo, no? Spero. Diciamo che è un ragionamento esclusivamente dato dal triangolo rettangolo. Se consideriamo semplicemente il triangolo rettangolo qui presente, sulla destra in alto, allora valgono le leggi dei triangoli rettangoli. In particolare vale ovviamente la legge di Pitagora. Questa la chiamiamo I come ipotenusa, e quindi possiamo dire che per il teorema di Pitagora I al quadrato è uguale a S al quadrato, che è il cateto, il primo cateto, diciamo la base, più L al quadrato, che è il secondo cateto. Semplicemente noi sappiamo che S è uguale a V per T, perché l'abbiamo calcolato prima. L è uguale a C per T di B, chiamiamolo così, T di Bob. L è uguale a C per T di Alice, ovviamente viene da qui, perché se faccio la formula inversa, L è uguale a C per T di A. E invece I che cos'è? I, attenzione, è il raggio di luce che è partito dal basso e arrivato in alto. Ma è partito dal basso e arrivato in alto per Bob. Quindi la possiamo indicare, possiamo usare la velocità della luce, ma secondo la visuale, il punto di vista, si direbbe, di Bob. E quindi possiamo dire che I è uguale a C per il tempo di Bob. Cioè, di nuovo, abbiamo fatto la formula inversa C uguale I fratto T di Bob, e quindi formula inversa I uguale a C per il tempo di Bob. a questo punto che abbiamo questi valori, cosa dobbiamo fare? Sostituire. Sostituiamo nell'equazione di Pitagora e scopriremo che C per T di Bob al quadrato è uguale, cioè I al quadrato, S al quadrato, quindi V per T di Bob al quadrato, più L che sarebbe C per T di Alice al quadrato. Una volta che ho elevato al quadrato posso fare una cosa simpatica, cioè porto l'incognita del tempo di Bob a sinistra, in modo da avere a sinistra i valori e le variabili col tempo di Bob, le costanti, in realtà, l'incognita del tempo di Bob e a destra lasciare il tempo di Alice, e quindi diventa C quadro T di B quadro meno V quadro T di B quadro cambia di segno perché porto a sinistra dell'uguale uguale C quadro per T A quadro. Raggruppiamo il T di B, matematicamente molto semplice, T di B quadro che raggruppato diventa C quadro meno V quadro uguale C quadro T A quadro. A questo punto cerchiamo di isolare la T di A, cioè dividiamo tutto per C quadro. Se dividiamo tutto per C quadro queste e queste se ne vanno e ci rimane questa simpatica equazione dove però i tempi sono al quadrato e quindi noi cosa facciamo? Estraiamo la radice quadrata a sinistra e a destra ma estraendo la radice quadrata quello che succede è che qui abbiamo T di B e qui attenzione abbiamo la radice quadrata di C quadro meno V quadro fratto C quadro uguale T di A se noi ci facciamo caso C quadro meno V quadro fratto C quadro lo possiamo scrivere anche come C quadro fratto C quadro meno V quadro fratto C quadro questo fa questo fa 1 e questo rimane V quadro su C quadro ovvero la mia equazione unendo queste due considerazioni diventerà T di B che moltiplica la radice di 1 meno V quadro su C quadro uguale T di A ovvero ulteriore passaggio che fa Einstein giusto per avere T di B come riferimento T di B uguale a 1 fratto la radice di 1 meno V quadro su C quadro per T di A ebbene 1 fratto la radice di 1 meno V quadro su C quadro dove V è la velocità dell'astronave C è la velocità della luce si chiama viene indicato spesso con la lettera gamma che rappresenta il coefficiente di dilatazione temporale T uguale gamma per T' dove T è il tempo di Bob e T' è il tempo di Alice cioè T è il tempo che vede Bob rispetto all'astronave e T' invece il tempo che vede Alice gamma è un coefficiente di dilatazione quindi vuol dire semplicemente che il tempo si dilata perché perché gamma è un valore se ci riflettete che non può essere mai attenzione non può essere mai minore di 1 perché attenzione se voi ci fate caso noi abbiamo detto che la velocità della luce è la massima raggiungibile sul sul cosmo allora supponiamo che l'astronave viaggia alla velocità della luce e quindi sia un'astronave di luce fondamentalmente l'unico modo in questo caso avremo 1 fratto la radice di 1 meno c quadro fratto c quadro ma c quadro fratto c quadro fa 1 e 1 meno 1 fa 0 1 diviso 0 è quello che in algebra si direbbe un risultato impossibile invece in analisi potete dire potete dire che quando un risultato tende a 0 cioè quando un denominatore tende a 0 il risultato tende a infinito quindi è come se il tempo venisse moltiplicato per un fattore infinito se invece l'astronave viaggia a una velocità qualsiasi diciamo per esempio che viaggia alla metà della velocità della luce per intenderci allora abbiamo 1 fratto la radice vediamo cosa succede a gamma chiaramente 1 fratto la radice di 1 meno v quadro scusate al posto di v quadro appunto mettiamo c quadro mezzi c mezzi al quadrato fratto c al quadrato allora questo diventa 1 fratto la radice di 1 meno c quadro fratto 4 fratto c quadro quindi c quadro si semplifica e quindi questo diventa 1 fratto la radice di 1 meno un quarto 0,75 e quindi questo è un numero è un numero sicuramente maggiore di 1 cosa vuol dire che il tempo di alice non sarà mai uguale al tempo di bob e cioè che il tempo di alice subirà sempre una dilatazione perché sarà sempre maggiore di 0 come vi ho detto maggiore di 1 come vi ho detto prima ovvero può raggiungere dei valori che vanno da 1 a infinito ma infinito solo nel caso della luce è come se la luce vedesse il tempo dilatato talmente tanto da fermarsi in un certo senso cioè ma soprattutto quello che vi deve interessare è il fatto che i due tempi misurati da bob e da alice sono diversi perché gamma non è mai uguale a 1 è sempre maggiore di 1 cioè o meglio gamma può essere uguale a 1 solo in un'occasione cioè quando v quadro è uguale a 0 cioè quando l'astronava è ferma perché se l'astronava è ferma se ci fate caso il nostro gamma diventerà 1 fratto la radice di 1 meno 0 fratto c quadro ma 0 fratto c quadro fa 0 e 1 diviso la radice di 1 la radice di 1 è 1 1 diviso 1 fa 1 e quindi t in questo caso è uguale a t primo quindi i due tempi sono uguali solo a patto che i due sistemi di riferimento cioè che i due osservatori i due protagonisti del viaggio uno del viaggio l'altro dell'osservazione siano contemporaneamente fermi nello stesso sistema di riferimento questa è la dimostrazione matematica della dilatazione temporale nella relatività ristretta di riferimento di riferimento di riferimento